Ci mancavano anche i rosari taroccati. In vista del Giubileo il business non conosce davvero confini a Roma. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno compiuto un blizza nei negozi del centro e hanno smascherato un vero e proprio campionario del falso. Medagliette, rosari, bracciali, bandierine, strofinacci raffiguranti l'iconica immagine dell'Italia con spaghetti e mandolino. Il tutto con i loghi della Tierra Papale del Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza, ovvero il marchio distintivo dell'evento registrato in Vaticano, ma che nel caso di questi articoli era stato riprodotto in modo fasullo. Dopo i sequestri, indagini più approfondite hanno permesso di risalire all'importatore della merce, considerato responsabile anche della violazione della normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti, visto il potenziale nocivo dei metalli utilizzati per la realizzazione di quegli oggetti, quindi pure di scarsa qualità. Alla sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di introduzione e vendita nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e di emissione in commercio di prodotti contenenti sostanze vietate dalla normativa comunitaria.